Ah! La lumaca mi ha quasi avuto ma sono ancora vivo! Devo disperdere sale dietro di me per nascondere le mie tracce! Inoltre, se cammino sulla sabbia, sicuramente la lumaca si brucerà tutta il sotto, no? Io in più lascio il sale dietro, così le rendo ancora più impossibile seguirmi! E se la sabbia sarà difficile e ostica per lei, aspettate che scopra quanto si brucerà passando sopra il ghiaccio! Guardate un po'! Ecco qui! E guarda un po'! Buttiamo ancora sale! Riempiamo tutto di sale! Creerò una fortezza inespugnabile! La lumaca non mi troverà mai qui!